La bellezza, la poesia e la perfezione artistica della danza classica arrivano in tv con La Mia Danza Libera, uno show ideato e interpretato da Roberto Bolle, in onda sabato 8 ottobre in prima serata su Rai 1. La danza si esprimerà in tante forme, ci saranno passi a due e a soli dal repertorio classico, moderno, contemporaneo e tanti duetti e interazioni con artisti conosciuti al grande pubblico che non fanno parte del mondo della danza, ma che sono magari dei cantanti, degli attori, dei musicisti. Un viaggio insieme a Star del Balletto e artisti come Asaf Avidan, Elio e Stefano Bollani, Luisa Ranieri, Paola Cortellesi e Michaela Ramazzotti e Francesco Pannofino, inclusa un'incursione di Carla Fracci con il suo alter ego Virginia Raffaele e un insolito incontro con Lorenzo Giovanotti. Lorenzo è veramente il mio grande amico, ci conosciamo da diversi anni e ha accettato di partecipare con grande entusiasmo a questa serata e ha accettato anche una grande sfida, quella di ballare con me, quindi duetteremo insieme e su un passo due creato, si alza il vento, sulla sua canzone e ci siamo veramente divertiti nelle prove, nel registrarlo, è stato un processo creativo molto bello. Musica, ironia ed emozioni sfidano le convenzioni offrendo al grande pubblico di Rai 1 la possibilità di assistere in prima serata a uno show dove la danza non è una silenziosa protagonista, ma il filo conduttore di una narrazione artistica completamente nuova. Abbiamo voluto dare delle suggestioni diverse con le luci innanzitutto, quindi dei giochi di luci, di atmosfere, di proiezioni grafiche alle pareti, alcuni contributi digitali, inquadrature particolari, quindi veramente abbiamo cercato con Solari, con Gian Piero Solari, un linguaggio nuovo. Grazie a tutti.